Ciao a tutte ragazze e benvenute in questo nuovo video! Oggi vi mostrerò un outfit che utilizzerò questa sera per andare alla festa di compleanno di un'amica che non vado tanto tempo. La passiamo subito a farvi vedere che cosa indosso. Come maglietta indosso questa bianca, molto semplice davanti e le maniche invece hanno questi fiori. E hanno anche le retine in mezzo ai fiorellini e continua fino a mezzo manica e poi la manica è tutta semplice. Di sotto utilizzerò questa gonna in ecopelle nera con tutte queste pieghe e di sotto come vedete ho le collant nere a 15 denari. Come scarpe ho optato sempre per qualcosa in ecopelle e sono appunto queste scarpe con il cinturino con il plateau tipo carro armato. Non so mai come si dice. Come accessori indosso ovviamente le mie perle come al solito perché io sono nemica delle orecchine e uso sempre le stesse appunto per questo perché non mi piacciono ma senza mi sento strana. Come bracciale invece vorrei indossare qualcosa di semplice ma figo per me, quindi il bracciale questo di Doctor Who. Il problema è che da tre ore che non riesco ad allacciarlo, non so perché mi scivola di continuo, proprio non vuole venire con me questa sera, vabbè. Come anelli utilizzerò questo qua nero e argento e poi utilizzerò questa coroncina. Poi come borsa sto utilizzando una pochette che non so se la utilizzerò con la tracolla oppure la leverò e la terrò in mano così, non lo so. Comunque davanti è con questi brillantini, cioè soltanto nella parte sopra, mentre di qua e dietro è tutta pelle lucida. Di dentro è normalissima, un po' piccolina, però vabbè, normale una pochette. Io sono abituata, come sapete, con le borse gigantesche, quindi dovrò mettere lo stretto indispensabile. Comunque sto mettendo questa rossa perché si appina con appunto il disegno di qua, il rossetto, magari metterò anche lo smalto. E poi adesso il cappotto che vi faccio vedere. Questo è il cappotto che utilizzerò appunto tutto rosso e le maniche invece nere, trapuntate. Però non lo so, mi sorge il dubbio, ci sta la pochette lucida con questo tipo di cappotto? Non lo so. Comunque, questo qua è l'outfit. Adoro questo cappottino. Comunque, questo era l'outfit che utilizzerò appunto questa sera, spero che vi sia piaciuto. Ovviamente ancora devo fare qualcosa per i capelli perché fanno schifo. Perché voi ci vedete no, i capelli li ho lavati ieri e stamattina appunto mi sono svegliata con i capelli così, orribili, tipo con la forma strana. Non lo so. Comunque, noi ci vediamo al prossimo video. Un bacio, ciao!